Ciao a tutti, oggi abbiamo un annuncio molto importante da farvi, non è il solito video di provi di prodotto, non è una recensione, è appunto un annuncio sul proseguo, sulla storia dei nostri canali YouTube. Esatto, ben ritrovati, come avrete capito anche dal titolo di questo video, ci stiamo trasferendo, ma non fisicamente, saremo sempre qui virtualmente. Virtualmente non ci troverete più sul canale dove siamo adesso, dove ci state guardando in questo momento. Ci spostiamo, o meglio facciamo convogliare tutto sul canale di Android World, che per l'occasione sarà rinominato opportunamente in modo a non creare confusione. Troverete quindi lì tutti i nostri video, non solo quelli su Android, ma anche tutti quelli che facevamo su Smart World e Mobile World, i portatili, gli iPhone, gli accessori, i gadget, la domotica, tutto, insomma tutto in un unico canale, perché così è più semplice per noi e anche per voi. Esatto, proprio. Che avrete tutto raccolto in un unico punto, no? Proprio nell'ottica appunto di fare meno confusione possibili, sappiamo che ovviamente dividere i contenuti su più canali può non essere il massimo per voi per seguirci, e quindi abbiamo preso questa decisione di raggruppare tutti i contenuti che faremo dal 20 febbraio in poi su un unico canale, che appunto sarà, come ha già detto Nicola, quello di Android World rinominato. Ovviamente creeremo un po' di playlist per aiutarvi a dividere i vari argomenti, che saranno moltissimi, i video saranno ovviamente più frequenti di prima, perché ci saranno, come dire, il lavoro unificato su un unico canale, ma speriamo in questo modo di portarvi anche, diciamo, un po' di extra, no? Perché prima su Smart non potevamo parlare di Android perché c'era Android World, oppure su Android vi perdevate magari degli accessori di domotica, che sono molto belli e interagiscono bene con gli smartphone. O magari dei confronti di smartphone Android con iPhone. Ecco, quindi, diciamo... Le motivazioni sono molte, insomma, no? Molteplici. Speriamo che le condividiate. Esatto. E quindi, insomma, i passi sono abbastanza semplici, perché quello che dovete fare, se non l'avete già fatto, probabilmente l'avete già fatto, siete bravissimi. Qua sotto trovate l'url del canale di Android World rinominato, appunto, dove dovete iscrivervi. Attivare la campanellina delle notifiche. Assolutamente. Fondamentale. E niente, continuate, come sempre, a seguirci. Dal 20 febbraio 2020 avrete un unico posto nel quale troverete tutti i nostri contenuti. E sarà ovviamente un'occasione anche per qualche novità, però non anticipiamo. Se state guardando il video, quindi, dopo il 20 febbraio 2020, se non trovate nuovi video su questo canale, beh, vabbè, il motivo l'avete appena scoperto. Sapete come mai. Grazie per averci seguito. A presto e ci troviamo sull'altro canale. Ciao!